Barbara Baldacci è direttore marketing e comunicazione del gruppo Blue Hotels. Abbiamo assistito a questa bella entusiasmante presentazione del Savona 18 Suites e volevamo capire meglio in che senso viene considerata un'opera d'arte e quali sono gli elementi caratterizzanti dell'hotel. Allora, intanto per noi è un onore poter presentare questo prodotto all'interno ovviamente di questo evento della Design Week. Essendo un prodotto nuovo per il gruppo Blue Hotels, perché è un hotel di città, ma sicuramente ha una cifra distintiva che lo differenzia da tutti gli altri prodotti di design. Ogni oggetto, ogni mobile, ogni elemento d'arredo è stato studiato dall'architetto designer uno a uno e quindi anche la precisa collocazione degli oggetti hanno un pensiero. Inoltre si è voluto restituire al cliente, regalare al cliente, ospite dell'albergo, un'atmosfera di casa, un grande salotto dove convivono appunto tantissimi oggetti di design molto colorati, allegri, giocosi, ma molto raffinati. Quindi direi che questo è sicuramente l'elemento connotante di questa struttura che già di per sé ha una sua caratteristica, che è quella di recuperare, di un recupero della casa tipica meneghina di Ringhiera dei primi del Novecento, mantenendo la struttura senza snaturarla e offrendo delle camere che sono in realtà delle mini unità abitative perché la metratura è molto ampia. E' qualcosa in più quindi di un semplice quattro stelle, si differenzia anche per questo? Sicuramente proprio perché la ricerca stilistica anche degli oggetti, del design, delle aziende con le quali si è collaborato, da Boffi, Riva, Venini, eccetera, sono chiaramente motivi di orgoglio del Made in Italy che si accompagna molto bene con l'orgoglio del Made in Italy di Blue Hotels che è una catena totalmente italiana ed è una bella storia di imprenditoria italiana. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.